Abbiamo un angolo un po' particolare, se l'appoggiate al banco, come sta facendo Matteo, se l'appostate ai lati del banco, vedete che è particolare, provate ad accostarci gli altri, se ce l'hanno così particolare, no gli altri angoli, le altre sagone, questo è un angolo particolarissimo che sarà importantissimo nel nostro studio. Se piegono questo, viene un angolo retto, è un angolo retto, è un angolo retto, confrontate anche se gli altri due sono retti, se piegono gli altri due anche nella sagoma, vediamo se sono più di uno retto, magari ce ne sono due retti, ce ne sono uno, va bene, basta vederlo accanto al vertice, lo metto così, e poi quest'altro lo metto così, vedete che c'è solo uno, sempre numero lato, numero angoli, quali sono gli attributi importanti? la prima, come c'erano gli angoli, la prima sagoma? Tutti diversi? Sì, tre angoli tutti? Tutti diversi, la seconda? Due congruenti e uno diverso, due angoli congruenti, Andrea la terza? tre angoli congruenti, la quarta sagoma e le gerafiche cosali importanti? Abbiamo visto che un angolo retto è l'altra caratteristica importante.